Fedez ricoverato d'urgenza. Ferragni lascia Parigi annulla gli impegni Il rapper è stato ricoverato d'urgenza in una struttura ospedaliera. Ma ancora da parte della coppia nessun annuncio ufficiale Cosa sta succedendo a Fedez? La, fuga, dichiara Ferragni da Parigi per un'emergenza sta facendo decisamente preoccupare i fan Intanto, un loro amico, durante una diretta live, ha confermato i timori In queste ore il Corriere ha rivelato che effettivamente il rapper si troverebbe in ospedale. Dove starebbe eseguendo degli accertamenti Proprio in queste ore, alcuni rumor secondo quanto riporta Leggo parlano di un'operazione d'urgenza per il rapper Un intervento improvviso, che avrebbe preso alla sprovvista la celebre coppia Facendo il punto della situazione. Da qualche giorno Chiara si trovava a Parigi per prendere parte agli eventi della Paris Fashion Week Nella serata di ieri ha condiviso alcune stories su Instagram con cui informava i fan che stava rientrando improvvisamente in Italia A Milano, per, un'emergenza Al suo fianco c'è Chiara Biasi, una delle sue migliori amiche A quest'ultima rivolge il suo ringraziamento per esserle accanto in questo momento delicato Dopodiché, Chiara ha condiviso alcune foto che la ritraggono i suoi figli Leone e Vittoria Nonostante tutto, l'imprenditrice digitale, in questi scatti appare sorridente e felice Questo dimostra che Fedez non è attualmente in pericolo di vita Nelle scorse ore, però A preoccupare i fan ci ha pensato un loro amico Si tratta di Davide Marra Conosciuto come M.R. Marra Quest'ultimo è il nuovo co-conduttore del podcast Muschio Selvaggio Durante una diretta su Twitch ha chiesto ai suoi fan di Mandare un abbraccio a Federico in chat M.R. Marra, però Ha preferito non aggiungere altro sulla questione Lasciando la situazione di Fedez e Chiara avvolta nel mistero Nonostante questo, le sue parole hanno rappresentato comunque la triste conferma che c'è qualcosa che non va in casa Ferragnez e che, effettivamente, c'è stata un'emergenza Non è la prima volta che Fedez fa preoccupare i fan con il suo stato di salute Il rapper ha dovuto affrontare un tumore al pancreas Più volte il rapper si è svelato sul grave problema di salute Parlandone con i suoi fan Apertamente sui social network e attraverso la serie Ferragnez su prime video